I fans di Adriano Celentano sono in trepida attesa, attendolo l'8 e il 9 ottobre prossimo i suoi due concerti che saranno trasmessi tra l'altro in diretta su Canale 5, nel frattempo possono visitare il suo nuovo sito, Anna Praderio. Il mondo di Adriano Celentano arriva anche nella rete, il ragazzo della Via Gluck che ha già un blog molto seguito inaugura un nuovo sito ufficiale con una veste rinnovata anche graficamente e con l'immagine del molleggiato con la sua chitarra come simbolo perché si collega all'indirizzo www.adrianocelentano.it, c'è la possibilità di entrare nel suo archivio artistico e di viaggiare online tra le sue canzoni che hanno fatto la storia della musica rock e pop italiana. È un momento di grande vitalità per Celentano, prepara il suo ritorno in concerto dal vivo dopo 18 anni con due serate evento all'Arena di Verona in autunno l'8 e 9 ottobre che saranno trasmesse in diretta su Canale 5 ed è già record di vendita per i biglietti dal prezzo simbolico di un euro. E ora ha deciso di allargare ancora di più la comunicazione con il popolo del web. Sul nuovo sito ci saranno documenti di una carriera di oltre 50 anni, i primi scatti in bianco e nero, foto inedite, immagini dei suoi film ma anche speciali finestre di dialogo in tempo reale tra l'artista e i suoi fans che permetteranno al pubblico di entrare ancora di più a far parte del mondo di Adriano Celentano. Grazie mille!